Ritengo che questo progetto sia importantissimo per noi giovani ricercatori sia perché ci darà l'opportunità di imparare a divulgare le nostre conoscenze aspetto che è molto difficile per i giovani ricercatori e poi credo che rappresenterà un luogo di condivisione e collaborazione di idee non solo fisico ma anche proprio virtuale perché in un mondo in cui la scienza ha sempre più bisogno di collaborazione questo centro rappresenta un'incredibile opportunità per noi giovani ricercatori.